Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. Sul raccordo Siena-Firenze è scambio di carreggiata per lavori tra Monteriggioni e Badesse in entrambe le direzioni. Sulla FIPILI attenzione al personale sulla strada per lavori tra Lavoria e Vicarello e tra Livorno-Aurelia e Livorno-Porto, entrambi in direzione Livorno, in entrata a Vicarello e allo svincolo di Ponte della Ovest-Possacco in entrambe le direzioni e tra Ponte della Est e Montopoli-Valdarno e tra Ginestra-Fiorentina e la Strassigna entrambe in direzione Firenze. Infine per gli aerei per domani è stato proclamato uno sciopero in orario 13.17 per gli aeroporti di Firenze e Pisa. Potranno verificarsi in modifica alla normale attività operativa dei due scali. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!